Il finalista di Shanghai nei 1.500 metri di perifero è Samuel Pizzetti, centrosportivo per la migliaia di voto a tutti i genitori. La dossier 5, Gianluca Amagna, gruppo a nuoto fiamme gialle, intera anche lui, finalizzato con la stagetta Shanghai. Sossier 6, Marco Belotti, 5 caro piranieri. Sossier 7, Nicola Cappio, 5 caro piranieri. Sossier 8, Cesare Sciocchetti, centrosportivo per la migliaia di voto a tenore. Sossier 9, Alex Di Giorgio, 5 caro piranieri. E così a 10, finito con Pampagini, Charles Provi. E' partita la prima sede, il procetto si è libero uomini. In atto abbiamo Massimiliano Rosolino in corso 1, Emiliano Poimita alla 3. Il mio tempo di decisione è Gianluca Maglia, da parte della stagetta di Italia, finalizzata mondiale di Shanghai. Rigo di Soliana è di Filippo Maglini, 1,41 a 65. Il tempo richiesto dalla federazione moto per i europei è 1,45 a 57. D'alto Marco Pelotti, 4-95, 4-58 davanti a Gianluca Maglia. E' un po' che si può fare per lui. C'è un po' che si può fare per lui. C'è un po' che si può fare per lui. Quindi finiamo la tirata dei 150 metri con il Cesare Scioschetti, 1,68 in vantaggio, seguito dalla 9 di Giorgio. 15 centeschi che dividono 26, 0,9 per il Cesare Scioschetti, 26, 74, Alex Di Giorgio. Un'altra marca di questi 200 ultimamente campionati italiani assoluti e primi 2011. E' un'altra marca di Giorgio, 1,11 e le Anex di Giorgio in costina 9, con 1,45 a 50. E' un po' che si può fare per lui. E' un po' che si può fare per lui.